ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi questo in pratica è proprio il penultimo video se non sbaglio di questo 2017 perché si sta per concludere si sta per concludere e quindi vi ho portato un po' di idee trucco, outfit, musica insomma varie cose per questo capodanno e io non mi voglio assolutamente perdere insomma far perdere tempo vi lascio direttamente al trucco che è appunto quello che indosso adesso di cui sono non fiera bensì fierissima forse oltre al rossetto cioè sono due varianti o questo nude semplicissimo oppure il rossetto proprio forte forte forte, non so per i miei gusti è meglio questo così però anche forte devo dire che non ci sta male vi lascio il video ci vediamo dopo allora ho messo il fondodinta su tutto il viso poi questa cipro illuminante e poi ho iniziato con gli occhi poi andiamo a mettere un ombretto in forma oro all'interno dell'occhio mentre l'interno mi sono sempre un brittino ma so tanto che lo vuole possiamo andare a fare una nuova di un ombretto nera verso l'esterno quindi fare la prima dell'occhio e assumere tutto con l'ombretto nera con l'ombretto con l'ombretto con l'ombretto nera e assumere tutto tanto, 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 tanto mascara che è quello che si deve usare sempre e poi mi era venuta l'idea di metterci questi brillantini che in realtà sono proprio dei semplici brillantini che ho portato tutta la parte e hanno reso il viso molto più luminoso perfetto per la serata di Catania blush sulle nostre guance illuminante sotto l'occhio e infine un luci da labbra dai toni nude giusto per avere le labbra a uscire come outfit questo vestitino grigio con sotto e c'era una riga tutta brillantinosa dietro a questo fiocco ho messo sopra questo guardiamo un corto e infine ho messo questi tacchi come film per questo capodanno voglio proporvi il capodanno a New York che in pratica è un film un intreccio un intreccio di amore possibilità speranze seconde possibilità insomma nella notte più magica dell'anno ovviamente a New York ve lo consiglio è veramente veramente bello per le musiche invece per terminare questo anno e per iniziare l'anno successivo con il bot insomma mi do questa playlist Pop Dentology di Daniel Keen che in pratica è fantastica stupenda meravigliosa andatela a seguire se volete passare una serata coi botti proprio e infine come oggetti quest'anno vi do questa volta insomma vi do due proposte allora la prima sono questi cerchietti da utilizzare con la scritta buon anno da utilizzare ovviamente è passata la mezzanotte guardate quanto sono carini e simpatici ho diversi colori anche argento giallo oro rosso blu e verde sono veramente veramente carini e simpatici e devo dire che insomma fanno il loro effetto e in più sono comunque un ricordo carinissimo per magari fare foto video e cose varie oppure oltre insomma a questi cerchietti abbiamo questi oggettini che ovviamente si possono sia costruire che comunque comprare e sono carinissimi per fare foto video insomma le stesse cose dell'altro insomma ragazzi sono veramente veramente carini e simpatici e niente ecco qui questo video idee per questo capodanno 2017 spero passiate nel miglior dei modi e che vi divertiate non si sa quanto io ve lo auguro così con questi due oggettini carinissimi e niente spero che il video vi sia piaciuto un bacione grandissimo e ci vediamo mi satisfaccia direttamente l'anno prossimo ciao belle